La sua principale qualità è la velocità, la capacità anche a saltare l'uomo, pensa di avere dei progressi da fare a livello di rifinitura dell'azione, magari l'ultimo passaggio, però si mette a disposizione per aiutare la squadra sulla seconda parte della stagione. Dalle prime parole dal giocatore della Fiorentina arriva la conferma che Iconet ha una gran voglia di conquistare la piazza Viola e i suoi tifosi, particolarmente soddisfatto nel giorno della presentazione dell'attaccante che tanto bene ha fatto in Ligue 1, il direttore sportivo Daniele Pradet. Abbiamo fatto un buon lavoro tra Fiorentina, Lille e i loro agenti. La cosa che ci fa più piacere, prima di parlare di quella tecnica, è che Giorco ci abbia scelto in questo momento. Ma il momento del mercato Viola è ancora legatissimo al futuro di Dusan Vlaovic. Dopo la mezza apertura nelle ultime ore del giocatore, con quel suo mai dire mai, le considerazioni del direttore generale Barone sono invece tranchante. Quando Dusan diceva ai tifosi che voleva firmare, tutti ci abbiamo griduto, compreso io, compreso Rocco, compreso Daniele Pradet, perché la cifra concordata sul salario del giocatore era un modo accordo. Quella è una cosa importante. Dove è diventata complicata è sulla richiesta degli agenti. E questa è sempre dove esiste un enorme problema. Vogliamo solo essere la tifoseria, la proprietà, vogliamo essere solamente riconosciuti di arrivare a un accordo, sì, no, per andare avanti. Perché la cosa importante è che la società esiste sempre.